Meghan Markle e il principe Harry affrontano un calo del sostegno negli Stati Uniti, secondo un esperto reale, dopo una reazione a sorpresa alla copertina della rivista Time della coppia. Meghan Markle e il principe Harry potrebbero affrontare un contraccolpo crescente negli Stati Uniti, secondo un esperto reale. Ciò avviene dopo che il duca e la duchessa del Sussex hanno abellito la copertina di Time dopo la loro inclusione nell'elenco annuale delle 100 persone influenti della rivista. L'editore del diario del Mail, Richard Eden, ha dichiarato a Palace Confidential che la coppia. Sembra dividere le opinioni negli Stati Uniti tanto quanto qui nel Regno Unito l'ospite di Palace Confidential Joe Elvin si è chiesto se la copertina della rivista mostrasse il divario tra una copertura più favorevole di loro in America rispetto al Regno Unito. Il signore Eden ha dichiarato. Dovrei dire che ci sono molti americani che si sentono molto forti al riguardo. Se diciamo, oh, gli americani adorano questo. Beh, molti di loro non lo fanno. Ci sono stati alcuni articoli di recente che sono stati molto negativi su Harry e Meghan. Eden ha aggiunto. Sembrano certamente dividere le opinioni negli Stati Uniti tanto quanto qui. Il divario negli Stati Uniti nei confronti di Harry e Meghan sembra tracciato lungo linee politiche, come commentatore conservatore della TV statunitense. L'esperto conservatore statunitense Candace Owens, che appare spesso su Fox News, ha twittato, onestamente non posso. Levirazione dal vivo del principe Harry continua. Non vorrei mai che mio marito fosse imbarazzato in questo modo davanti al mondo. Solo così patetico. Allo stesso modo, l'editorialista conservatore Matt Valsh ha bollato la copertina della rivista Time con il principe Harry e Meghan Markle un display triste per il duca. Condividendo la copertina con i Sussex, Valsh ha twittato. Harry ha cucciato dietro sua moglie mentre si aggrappa alla sua spalla e il perfetto rappresentante del moderno maschio beta. L'uomo è appena stato completamente sterilizzato. Un display triste. I media lo adorano.